Ciao ragazzi, siamo con Alessandro che sta giocando con i suoi lego Voglio sfondare questa finestra Vai a vedere, sfondare la finestra Perché deve entrare dentro Ha sfondato tutta la casa Ragazzi, guardiamo le mini figures Guardate, ci stanno delle mini figures Qual è l'intruso? Alcuni sono originali, alcuni sono cinesi Allora, io dico Questi sono tutti cinesi Allora, no, no, no Allora, testa d'intelligenza Sì Questi secondo voi sono originali o cinesi? Originali Ti vedi che sono stremi, no? Allora, quelli che sono originali sono questi Sì, dovresti che le butteremo lì Come le butteremo lì? Quelli sono carini, guardi, spiegati Questo è sempre originale Questo è cinese È cinese Questo pure è cinese No, no, non mi devi dare indizi Lo riconosce Questo qui Alcuni sono mischiati Che abbiamo, c'hanno le gambe originate Oh, era un testo d'intelligenza Questo qui è via Guardate, guardate senza la roba cinese Quanti pochi pupazzetti abbiamo Per fortuna che ce ne abbiamo cinesi Oh, oh Guardate che figo Questo è figo, eh Questo qui c'ha la testa falsa Questo c'ha la testa falsa Non è la tua testa vela C'ha la testa falsa Via Ma la devi buttare così Ma la devi buttare così Guardate, questo è stremo Guardate, voglio lì Guardate, questa qui c'è la buona Sempre buona Anche quelli cinesi A noi ci fanno un gioco uguale Ci fanno un numero Però le testo vanno tutte bene le testa Ma tutto va bene L'abbiamo pagati solo 20 pupazzetti finti Dammelo uno finto Dammelo uno, dammelo per aglio Dammi il cuovo, dai E dammelo, dammelo in mano L'abbiamo pagati 25 euro E allora voi direte È fatto bene mille cinini a comprarle Le braccia si staccano più facilmente Rispetto a Vigina Fai vedere come si levano le braccia Vedete? La braccia non è che è proprio il top Non è proprio il top Però sono divertenti uguali Che si importa Perché si devono staccare il braccio Voglio dire Non dureranno anni, anni, anni Man mano si allentano Però all'inizio è giusto per farci il mucchio Così almeno i nostri cose originali della Lego Che devono sparare Spareranno Vedete quelle anche là ce le abbiamo un altro Spareranno a questi cinesini Però Almeno ci abbiamo qualcuno da cui sparare Questi sono un blocco da 20 Poi ce ne arriva un blocco da 10 Un blocco da 30 Quelli da 30 mi saranno pagati 8 euro Tutti Questo qui Invece questo originale L'ho pagato 5 euro solo questo 5-6 euro Mi sa 6 euro solo questo E' carino che è originale Vedete? Però questo 1-5 euro Questi 20 20 Me l'hanno dati di tutti i tipi Guardate quanto sono carini E' diversa le gambe Sono rispetto agli origini Fai vedere le gambe come sono diverse Sì Alessandro Le gambe si smontano Si smontano una a una Singolarmente Questo qui non si smontano perché Voi le avevo infilate Sono difficili da smontare Però praticamente le gambe Qui c'è un pernetto al centro E le due gambe le infili da lato Capito? E' diverso l'origine E' proprio diverso Invece Ecco qua Vedete come è fatto? C'è proprio due gambe E' fatto da tre pezzetti Invece quelle originali E' fatto La parte sotto E' fatta tutta da un pezzo Questo è uno Due E tre pezzetti La parte sotto La plastica Anche al tatto Si sente Che è più poverella Questi invece sono Non originali Questo non è originale Sempre cinese Però La gamba è fatta Diciamo come L'originale E' un originale Fatto un po' meglio Poi i pezzi La testa e altro Ormai sono state tutte staccate Perché Alessandro Gli stacca le teste Vabbè Intanto ci aiutano A fare il numero Poi dopo Man mano che gli oggetti Vediamo questi Deteriora Non li buttiamo Bella Questa l'ha fatta Ale L'ha fatta Vedete che bella casetta Ho spuntato la finestra Però non l'ho spuntato Tutta la casa Guardate Qual è il tuo gioco preferito Ale Di tutti questi Lego Lego? Sì ma quali Quali ti piace Cioè la cosa Poliziotto Treno Star Wars Star Wars Star Wars quale? Questo? Quale? Questo è estremo Ma hai visto come spara? Fai vedere che spara le teste Puoi sparare le teste? Dai Spara le teste No Stacca le teste Il bottoncino Il bottoncino va più lontano Fai vedere Facci vedere il meccanismo Dai Ecco Vedete Praticamente il bottoncino Entra qua dentro Stacca le tue Stacca le tue Stacca le tue Stacca le tue Papino La testa Vedete La testa Ecco Vedete Questa arriva qui Fa pressione E parte Quindi Questa le vetta Questa piccolita Questa le vetta Gli fa pressione Fa caricare La molla Va bene Alessandro Saluta Ciao 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 Ciao